Questa canzone è una canzone un po' presuntuosa, per due ordini di motivi. Innanzitutto, questa canzone dura sette minuti. Ce la farete? Ce la farò? E poi questa canzone ha la presunzione di raccontarvi il titolo e quinte di un grande set cinematografico, animato da due divi del cinema, che sono amanti. Richard Vardo, Liz Taylor, ha la presunzione di raccontarvi che cos'è il cinematografo. La prima scena è la stanza di una casa e un po' bella. Siede al centro trova una persona di cui non divesti mai. Che piange come una ragazza, sembra un'altra razza di un uomo che non piange mai. La nuova scena è in sé nei piedi di una donna che sale in fretta con un'imano. Una cosa pratica, la porta sembra forse aperta, mentre di scoperta lo sente che direbbe a me. Volevo dirti solo due parole, come forse sono una canzone, quando fuori piove e poi c'è il sole. La gente si commuove, soltanto delle prove, disse l'attrice al primo attore. La terza scena sta nel foglio che hai lasciato un'imano. Cosa prendersi quando dici essere felici e poi ti muovi? Tra la porta e il letto stiamo recitando, o per dispetto fai così? La terza scena è un'imano. La terza scena è un'imano. Volevo dirti solo due parole, come forse sono una canzone, quando fuori piove e poi c'è il sole. La gente si commuove, soltanto delle prove, disse l'attrice al primo attore. La terza scena è un'imano. 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 Grazie a tutti